La notizia ha preso in contropiede tutti, compreso l'artista più provocatorio dell'arte, Maurizio Cattelan. Il suo cesso WC d'oro da 18 carati è stato rubato in Inghilterra. Scopriamo cos'è successo. Il 14 settembre, a America, il celebre water d'oro dell'artista italiano Maurizio Cattelan è stato rubato in Gran Bretagna durante una mostra al Blenheim Palace, una residenza monumentale nell'Oxfordshire, nota per aver dato i Natali a Winston Churchill. Il cesso, rivestito in oro massiccio da 18 carati, ha un valore stimato in oltre un milione di euro. Ma Cattelan ha pensato bene di far alzare la valutazione a ben 4,5 milioni di euro. America è una delle opere più note e controverse dell'artista, che prima di essere portata in mostra in Gran Bretagna è stata a lungo utilizzata dai visitatori del Guggenheim di New York. Sì, ho detto bene, è stata utilizzata perché il water era possibile usufruirne durante l'installazione. L'opera era salita alla ribalta quando Cattelan l'aveva sarcasticamente offerta in accordo con il museo al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale aveva richiesto in prestito un'opera di Van Gogh, per arredare l'appartamento presidenziale della Casa Bianca. Di tutta risposta ha ottenuto invece questa proposta, la quale non ha ricevuto alcuna risposta da parte del presidente. Prima del furto sul territorio inglese, i visitatori potevano prenotare un appuntamento di 3 minuti per far uso del gabinetto. Il furto ha provocato danneggiamenti e allagamenti significativi nel palazzo, proprio perché collegato al sistema idraulico dell'edificio, quindi completamente funzionante. Ironia della sorte, appena un mese fa, Edward Spencer Churchill, fratellastro dell'attuale duca di Malbur, aveva dichiarato di sentirsi tranquillo per la sicurezza dell'opera, affermando che non sarà la cosa più facile da rubare, soprattutto per il suo peso, peso specifico dell'oro e della quantità del water. E invece, dopo appena due giorni dall'apertura della mostra, victory is not an option. Ecco così che il furto si è consumato. In moltissimi hanno pensato che sia stata una trovata, alquanto geniale diremmo ora, da parte dello stesso artista, ma come ha recentemente dichiarato, il furto di America? Vorrei che fosse uno scherzo, ma il crimine è talmente serio, anche se un po' surreale, visto che l'oggetto del furto è un water. Così lui ha dichiarato dall'alto della sua posizione. Resta il fatto che rubato oppure no, ecco che Maurizio Cattelan torna alla ribalta, volente o nolente, con una notizia che sembra fatta apposta per lui, il cui eco della stampa è stata cavalcata da tantissime istituzioni museali, che nei loro social, come per esempio il madre, ironicamente ha rassicurato i suoi follower del fatto che le loro misure di sicurezza funzionano e che è tutto apposta. Del water d'oro ancora oggi non c'è nessuna traccia. Chissà se qualcuno lo sta usando davvero.